Buonasera, di Emily Dickinson, l'andare da un mondo che conosciamo. L'andare da un mondo che conosciamo a uno di muta meraviglia è come l'ansia di un bimbo la cui il visuale è una collina. Oltre la collina è magia e ogni cosa sconosciuta. Ma il segreto compenserà la scalata solitaria?